Tu sei Caterina, giusto? Io sono Diego, sempre se ti interessa. Certo, Caterina. E tu dove eri? Fabrizio, di là. Un'amica. Sonia. Caterina la conosce. Non farla aspettare troppo, mi raccomando. Ma riconoscerai un uomo geloso perché guarda tre volte. La prima per errore, la seconda per ricredersi e la terza per amare a distanza. Io non guardo proprio nessuno. Lo sai che sei carina quando fai riuscire? Sì. Vorresti farlo più stesso. Se ne vuoi andare. Io non ho nessun motivo per restare qua, non vedesci nessuno. Carina notizia a tua sorella. Sei stato tu, eh? Eri tu, ragazzo, in moto il giorno dell'incidente. Quanto felice. Non volevo felice. Io credevo in te. Perché è stato tutto il giorno. Adè. Quindi hai trovato un motivo per restare? Forse. Perché è impossibile che baci come me. Nessuno ti bacia come me. Per resta mia non ti mancherà niente. Così ormai io amo te. Eh, 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 eh. Con quel sorriso che non puoi fermare. Con il corpo fatta apposta per ballare. Così ormai non resisto. Per un motivo lo puoi sempre trovare, no? Per un motivo sarebbe sogno.